Giulia Molino Colombini nasce il 22 maggio del 1812 a Torino. Discendente da una giata famiglia astigiana, si sposa a 20 anni col dottor Lorenzo Colombini di Miradolo. Rimane vedova all'età di 22 anni, si dedica all'educazione del figlio Camillo e alla composizione di opere letterarie storiche, civili e patriottiche, oltre che alla pedagogia. L'attenzione nei confronti di Giulia Molino Colombini viene richiamata da un saggio che lei stessa pubblica nel 1839, dal titolo «Saggi lirici di una torinese». In questa opera dimostra una severa preparazione letteraria e una non comune vigoria di pensiero. La sua migliore opera poetica è però rappresentata dai canti alle città italiane, Torino, Genova, Venezia e Napoli, che la rendono nota in tutta Italia. In un'epoca in cui il tasso di analfabetismo tra la popolazione supera il 70%, circa il doppio rispetto a molti paesi europei, e di questo 70% dei analfabeti, la maggior parte è composta da donne e di onicetto sociale, Giulia Molino Colombini costituisce un esempio fuori dalle righe per le giovani donne e contribuisce attivamente affinché la condizione femminile evolva verso una padronanza della cultura, delle lettere e della filosofia. Alla figura di una donna confinata tra le mura domestiche, con unico scopo quello di essere presente per il padre, il fratello o il marito, Giulia Molino Colombini contrappone quella di una giovane donna colta, indipendente, scolarizzata. Questa attenzione al mondo femminile si evince sin dai titoli di molte sue pubblicazioni. Troviamo infatti tra i suoi scritti Pensieri sulla istruzione ed educazione della donna, del 1860, e poi ancora logica ad uso delle giovanette, sull'educazione della donna e lettere di una giovane madre che vuole educare da sé la sua bambina. Sempre attenta all'istruzione ad ogni livello, coopera all'istituzione di asili a Portiani e regge importanti istituti educativi in Torino. Nel 1860 fonda a Torino la sezione femminile del circolo filologico che per suo merito ha prospera vita. Con gli scritti e con le parole prende viva parte alle vicende della lotta per l'indipendenza dell'Italia e mantiene una corrispondenza epistolare con le più eminenti figure di patrioti, studiosi, filosofi, letterati ed educatori del tempo. Nominata ispettrice generale delle scuole piemontesi da Domenico Berti nel 1874, si dedica agli istituti di educazione e particolarmente a quello per le figlie dei militari di Torino, che ha avuto la sua sede proprio a Villa della Regina. Nel 1879 è chiamata a Roma per far parte della commissione ministeriale per la scelta dei libri scolastici. Muore a Torino il 3 agosto 1879 e viene sepolta nell'arcata dedicata del comune ai suoi figli illustri vicino a Vincenzo Gioberti e Silvio Pellico per il contributo da essa dato all'Unità d'Italia. Per la sua ferma volontà viene denominata dai Gioberti l'Alfieri Donna Ode in morte di Diodata Saluzzo di Roero 1840 No, non morì quel tumulo Cippo non è di morte Un nome sulla lapide rivendica la forte arca di Patria Gloria Quel monumento sta Forse al pensier che indocile e a grandi esempi anela Pari a torpente e spirito Che nion di zio rivela Verrà segnato il numero dei giorni che vivrà? Vive Diodata E valida suona la sua parola O l'ascoltiam noi itale Che di virtude è scuola E voi Cui avi ti meriti Fortuna prodigò Nacqui Lusinghe e titoli Scherzaro sulla mia culla Udidi intorno Prospera Lietissima fanciulla Avi Veltà Dovizie Che più sperarsi può Che più sperarsi può E l'arbitra Forse dell'on fortuna O tanta rea miseria Un aureo tetto ad una Che i più sublimi palpiti Vi debba seppellir Vidi un sentier di gloria E il genitor su quello Arsi d'amore Intrepida mossi A voler novello Sudai Ma un certo florido Fe pago il mio desir O ben sudate veglie O ben solinga cella O gioia ignota a frivoli E sud ogni altra bella O premio De difficili studi consolator Alme parole Scuotano le menti italiane E questa dora patria Spoglie di fogge strane Sabbia ad esempio E stimolo Di Diodata il cor Di Diodata il cor